Ebbene sì, la chitarra battente in conservatorio non è più solo un sogno, ma finalmente riscatta la sua posizione di strumento colto, con un vero e proprio percorso di studi nella più alta istituzione musicale europea, il conservatorio. A dare l'avvio a questa rivoluzione per la chitarra battente è il conservatorio calabrese Tchaikovsky di Nocera Terinese, e il vincitore del bando per la docenza dei corsi è niente meno che Francesco Loccisano, il più grande esponente della chitarra battente. Il conservatorio di Nocera Terinese è intitolato al celebre compositore russo del tardo romanticismo Tchaikovsky. La sede dell'istituto è in via Dante Alighieri, numero 8, a Nocera Terinese, in provincia di Catanzaro. Il direttore del conservatorio è il maestro Filippo Arlia, che è anche il professore titolare della cattedra di pianoforte principale e della cattedra di direzione d'orchestra. Andiamo a vedere quali sono i corsi attivati nell'istituto superiore musicale Tchaikovsky. Infatti da quest'anno sono attivi nuovi corsi di musica popolare. Questo indirizzo ha il grande pregio di far diventare gli strumenti della tradizione oggetto di studi accademici nella più importante istituzione di studi musicali, cioè il conservatorio. Gli strumenti che si studieranno al conservatorio Tchaikovsky sono la chitarra battente, la zampogna, la lira calabrese, ciaramella, la fisarmonica diatonica, l'organetto, che sarebbe l'organetto e il bandoneon. A vincere il bando per la cattedra di chitarra battente in conservatorio è stato il maestro Francesco Loccisano. Il maestro Loccisano è stato il primo a sperimentare nuove tecniche sulla chitarra battente, creando così un nuovo mondo sonoro per lo strumento. Infatti la chitarra battente si apre così ad un nuovo ripertorio, svincolandosi dall'uso popolare di accompagnamento al canto e approdando ad essere uno strumento solista. Credo ad oggi, senza peccare di presunzione, che io possa recensire il percorso didattico di Loccisano meglio di chiunque altro. Infatti ho studiato chitarra battente con lui per diversi anni. L'ho conosciuto nel 2014 e da allora, grazie a lui, la chitarra battente mi ha rapito, facendo diventare anche me un sognatore di chitarra battente. Poi il nostro rapporto didattico è mutato e da lievo sono diventato un suo collaboratore. Così abbiamo formato un duo di chitarra battenti, unico nel suo genere, formato da ricchi colori e un'ampia gamma dinamica. Ma non solo. Insieme abbiamo scritto la chitarra battente, metodo basico, edito da Fingerpicking, che è il primo metodo ad avvicinare tutti alla chitarra battente. Inoltre, ai nuovi allievi, oltre al metodo base, potrà far utilizzare l'altro suo metodo, la chitarra battente, sempre edito da Fingerpicking.net. Ti posso assicurare che Loccisano non ha segreti. Ti insegnerà tutte le sue tecniche e i suoi segreti. Poi tocca a te farli fruttare al meglio. Parlare del futuro della chitarra battente in conservatorio è di sicuro qualcosa che tutti noi sognatori di chitarra battente ci auguriamo. La certezza è che finalmente le istituzioni hanno compreso che la chitarra battente, uno strumento con una storia ultracentenaria, alla pari delle altre chitarre, ha la necessità, oltre che il dovere morale, di essere insegnato grazie a dei corsi accademici. E se ci sono riusciti la chitarra classica, la chitarra flamenco, la chitarra jazz, la chitarra pop, perché non dovrebbe riuscirci la chitarra battente? Grazie per l'attenzione. Spero che anche tu diventerai un sognatore di chitarra battente, magari iscrivendoti al corso di Francesco Loccisano a Nocera Terinese. Nel frattempo ti invito a seguire il mio sito www.marcellodecarolis.com, iscriverti al mio canale YouTube, seguire i miei social Facebook ed Instagram per restare sempre acceronato su tutte quelle che sono le mie novità. Ciao e alla prossima, sognatore di chitarra battente!